Dopo avere per tanti anni invogliato e giovane di impegnarsi in politica, non potevo certamente dire di no a quanti mi hanno chiesto di candidarmi. Sono le prime dichiarazioni rilasciate da Alfredo Moulet, la cui candidatura a sindaco di Ribera alle elezioni amministrative del prossimo 24 maggio è stata presentata ieri mattina durante una conferenza stampa. Io ho sempre ritenuto che l'educazione civica e l'impegno civile sia un elemento essenziale per una sana società e quando sono venuti a cercarmi per un'eventuale candidatura a sindaco, io non mi sono voluto tirare indietro da questo impegno anche perché negli ultimi anni che mi ero riterato dall'impegno sociale attivo che avevo, invogliavo i giovani a impegnarsi in politica e soprattutto i giovani di sani principi perché secondo me l'antipolitica è un tarlo della società. E' consapevole l'ex presidente provinciale e regionale della Coldiretti che i tempi sono profondamente cambiati rispetto agli anni che lo hanno visto impegnato nella politica cittadina riberese. Lei ha un'esperienza politica alle spalle, è stato sia consigliere comunale ai tempi del sindaco di Salvo, sia assessore comunale quando ad amministrare era il sindaco Peppe Cortese. I tempi sono completamente cambiati rispetto a quelle esperienze. Adesso sui comuni ricadono tantissime responsabilità, tanti problemi che vanno anche oltre la crisi economica che rimane forse il problema più preoccupante. Con quale spirito oggi, alla luce di questo momento così delicato, ci si approccia ad un impegno e ad un'esperienza di questo tipo? Sicuramente l'impegno mi rendo conto che è molto, ma molto gravoso. Però io penso che un impegno per il buon governo, ma soprattutto per le cose semplici, per l'ordinaria amministrazione in un comune possa nascere qualcosa di buono anche dalle cose piccole. Infatti io nel programma che andremo a stelare come punti cardine metto nello sviluppo economico agricoltura e turismo. Però per fare agricoltura e turismo ci vuole un ambiente, un territorio che sia decoroso, che sia pulito e che sia decoroso. L'immagine è molto importante, quindi io ritengo che questi sono i punti principali, perché poi se va bene l'agricoltura, se va bene il turismo andranno bene tutte le altre attività economiche, l'artigianato, l'edilizia, il commercio. In queste semplici cose mi voglio impegnare e è dall'ordinario che possono nascere cose straordinarie. Potrebbero essere sei le liste di candidati al Consiglio Comunale che sosterranno la candidatura di Mulè. Penso che alla fine riusciremo a farne anche sei. Ci stiamo lavorando per poter avere sei liste. Chi sono i riferimenti di queste sei liste? I riferimenti di queste sei liste sono l'onorevole Cascio, l'onorevole De Mauro, l'ex sindaco, il PD, una mia lista che potrebbe nascere anche un'altra lista del senatore Rugono. Della coalizione fa dunque parte il sindaco uscente Carmelo Pace che alle prossime elezioni avrà una propria lista di candidati al Consiglio Comunale che ieri durante la conferenza stampa ha comunque tenuto a precisare che lui non sarà candidato al Consiglio. Assente invece il senatore Giuseppe Ruvolo che ha annunciato per sabato prossimo una conferenza stampa durante la quale spiegherà la propria posizione. Ma Alfredo Mulè sgombera il campo da ogni dubbio. Il senatore Ruvolo dice fa parte di questa coalizione. Con Ruvolo abbiamo condiviso in passato molte battaglie assieme. Io da esponente dell'organizzazione, lui da parlamentare, anche di recente stiamo portando avanti delle iniziative. Abbiamo sempre collaborato e naturalmente io me lo sento sempre al mio fianco, quindi poi lui deciderà in che modo e come esserci. Questo è infine il commento di Mulè sugli altri candidati a sindaco attualmente in campo in vista delle amministrative. Sono tutti avversari di spessore, tutta gente che è stata da sempre impegnata in politica e penso che in qualsiasi modo finisca la campagna elettorale e Ribera avrà un sindaco degno della città.